Ciao Elisabetta. Abbiamo qui Elisabetta. Io sono fresco di spa, quindi non ti spaventare. Lo conosco questo tema. Mi stanno trattando benissimo. Ma che è successo? No, non mi interessa l'albergo, voglio sapere questo, ma che è successo tra te e la Gregoracci? Perché lei dice che non è vero niente. Direttore, mi sconvolgo da un uomo elegante come te che mi faccia una domanda del genere. E mia povra nonna Caterina, che riposi in pace, mi avrebbe riempito di schiaffi se avessi mai parlato di presunte e non presunte storie con le donne. Non lo faccio e non lo farò mai. Non è mai successo nulla questa storia. Mai, non è mai successo nulla. Io non ne parlo perché lo trovo… No, ma aspetta, scusa un secondo, per onore di chiarezza, perché se tu fai un no comment sembra che invece tu l'abbia avuta. Se invece dici che non è vero è un altro discorso. No, 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 io dico che non ne parlo di queste cose. Poi uno tira le somme come vuole, che non ne parlo di queste cose.